Ciao amici, qui è il pastore Doug Batchelor. Vogliamo invitarvi di nuovo a tornare al nostro studio sulla grande tribolazione, più nello specifico sulle verità sconvolgenti sulla grande tribolazione. Ora, se vi ricordate dalla presentazione numero uno, quando abbiamo parlato della grande tribolazione, la gente di solito pensa al grande tempo di angoscia che ci sarà alla fine dei tempi. Ed è vero, sarà la nostra prossima presentazione. Ma quando Gesù in Matteo 24 parla della grande tribolazione, parla in realtà di tre eventi. Quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa, la caduta di Gerusalemme, la grande tribolazione che si sarebbe abbattuta sul popolo ebraico quando il tempio fu distrutto dai romani e il popolo ebraico si disperse per tutto l'impero romano. Ma poi c'è una seconda grande tribolazione di cui le persone si dimenticano. Gesù predice che ci sarebbe stata una grande tribolazione sulla Chiesa, storicamente nel corso della storia tra la prima e la seconda venuta. E questo è il nostro tema di oggi. Nella presentazione finale parleremo della grandissima tribolazione che arriverà alla fine dei tempi, che è sinonimo delle sette piaghe finali. Torniamo un attimo indietro e vediamo quali sono i versetti che fanno da fondamenta a quello di cui stiamo parlando. Si legge in Matteo, capitolo 24, versetto 15, lasciate che ve lo legga, quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti. Questa è una sorta di doppia profezia. Prima di tutto sta dicendo alla nazione ebraica che quando avrebbe visto Gerusalemme, circondata dall'esercito romano che sarebbe arrivato a distruggere il tempio, e lo sappiamo perché Luca dice, quando vedrai Gerusalemme circondata dall'esercito, coloro che sono in Giudea fuggano ai monti, questa era la prima parte, ma l'abominazione della desolazione era duplice. Primo c'era il potere romano guidato da Cesare, che distrusse il tempio ebraico e l'Israele di Dio letterale. Poi c'era il potere romano guidato dai papi, che distrusse il popolo di Dio, l'Israele spirituale, nel corso della storia, e questo sarà lo studio di questa presentazione. Ora, per darvi alcuni dati storici, finì per esserci una grande persecuzione. Quando gli ebrei furono dispersi, Gerusalemme fu distrutta, il diavolo provò a distruggere la Chiesa dall'esterno, i cristiani furono uccisi nel Colosseo, dati in pasto ai leoni e vari imperatori come Nerone, Diocleziano e Caligola perseguitarono la Chiesa. Ma più la Chiesa fu perseguitata e più si diffuse, quindi il diavolo passò al piano B. Se non riusciva a distruggere la Chiesa dall'esterno, allora provò a farlo dall'interno. Arrivò un imperatore di nome Costantino, conosciuto anche come Costantino il Grande, che combatte battaglie e cercò di conquistare la supremazia assoluta di Roma. Pensava di dover combattere i cristiani, ma non facevano male a nessuno. Sua madre Caterina si era convertita al cristianesimo e quindi praticamente legalizzò il cristianesimo. Disse di aver visto un segnale di una croce in cielo prima della battaglia sul ponte Massimiliano e disse, ora dobbiamo conquistare sotto il segno della croce. E ordinò persino all'esercito di marciare nel fiume Tevere, dicendo, ora siete tutti battezzati. Ma questo provocò seri problemi. C'erano tutti questi soldati romani pagani che adoravano gli dei greco-romani. Marciarono nel fiume Tevere, entrando da pagani asciutti e uscendo da pagani bagnati, ma era stato detto loro che ora erano cristiani e all'improvviso alla Chiesa accadde qualcosa di davvero tragico. Ci fu un'amalgama di cristianesimo e delle religioni romano-greche. Costantino il Grande introdusse un grande compromesso. Roma era piena di idoli. Giove, Mercurio, Diana, Venere. Si chiesero cosa facciamo con le statue. Alcuni cristiani dissero l'idolatria è proibita, bisogna distruggerle. Oh no, non possiamo farlo. Convinceremo più pagani se le rinominiamo con nomi cristiani. Chiamiamole Pietro, Giovanni, Giacomo e Maria. E all'improvviso, dalla sera alla mattina, l'idolatria fu introdotta nella Chiesa cristiana. Molti cristiani provarono a resistere a queste cose. C'è fu un periodo di circa 200 anni di grande sgomento dal tempo di Costantino fino al tempo di Giustiniano. Solo per darvi un'idea di alcune delle cose che entrarono a far parte della Chiesa in quel tempo, circa nel 500 d.C. la Chiesa era diventata un'istituzione governativa e erano stati introdotti moltissimi compromessi a livello religioso. I cristiani che seguivano la Bibbia avevano molte difficoltà. I protestanti non hanno avuto inizio con Martin Lutero e Jan Hus. I protestanti hanno avuto inizio molto prima, nel 300-400 d.C., protestando per il compromesso nella Chiesa cristiana. Ecco dieci elementi importanti contro cui protestavano i cristiani che seguivano la Bibbia rispetto a quello che faceva la Chiesa a quel tempo. Uno, la Bibbia insegna che non ci si deve inchinare alle statue. Ma la Chiesa romana, e poi la Chiesa cattolica romana, dice che ci si può inchinare alle statue. Due, la Bibbia dice che tutti hanno peccato tranne Gesù. La Chiesa romana dice che Maria era senza peccato e ha iniziato a deificare Maria. Tre, la Bibbia dice che Gesù è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, prima Timoteo 2,5. Beh, la Chiesa romana dice che Maria è una commediatrice insieme a Gesù. Quattro, la Bibbia insegna che Cristo ha offerto il suo sacrificio sulla croce una volta per tutti. La Chiesa romana insegna che il sacerdote sacrifica Cristo sull'altare ogni volta che celebra la messa. Cinque, la Bibbia insegna che tutti i cristiani sono santi e sacerdoti. La Chiesa cattolica dice che i santi e i sacerdoti fanno parte di una casta speciale all'interno della comunità e che i credenti morti devono essere adorati come santi, ma non si deve fare una cosa del genere. Sei, la Bibbia insegna che tutti i cristiani dovrebbero sapere di avere la vita eterna, prima Giovanni 5,13. La Chiesa romana insegna che tutti i cristiani non dovrebbero e non possono sapere di avere la vita eterna. Sette, la Bibbia dice che non dobbiamo chiamare nessun leader religioso padre. La Chiesa romana insegna che dovremmo chiamare i sacerdoti e il papa padre. Otto, la Bibbia insegna di non pregare con ripetizioni vane. Lo ha detto Gesù in Matteo 6,7. La Chiesa romana dice che se volete avere il perdono dovete confessare i peccati al sacerdote e ripetere poi il padre nostro o l'ave Maria per un certo numero di volte. La Bibbia dice che non si deve fare. Punto 9, ne abbiamo appena parlato. La Bibbia insegna di confessare i peccati solo a Dio, perché solo Dio può perdonare i peccati. Isaia 43,25, Luca 5,24. La Chiesa cattolica romana insegna che si devono confessare i peccati al sacerdote per avere il perdono. Punto numero 10, non è ancora tutto, ma questi sono i dieci punti più importanti. La Bibbia dice che prima del battesimo a una persona deve essere insegnato il Vangelo, dovrebbe pentirsi dei peccati, obbedire ai comandamenti di Dio, credere e pentirsi. Questo è Matteo 28, versetto 19, atti 8,37. La Chiesa romana insegna che i bambini piccoli devono essere battezzati o, in caso di morte, andranno all'inferno. Il concetto di purgatorio, limbo, della preghiera per i morti, non si trovano da nessuna parte nelle scritture, ma sono residui del paganesimo. E questo era quello di cui parlava Gesù quando ha detto ai capi dei suoi giorni, siete abili nell'annullare la parola di Dio per osservare le tradizioni. Mettete da parte i comandamenti di Dio per poter osservare le tradizioni. Beh, quando la Chiesa alzò la testa, arrivò un imperatore chiamato Giustiniano. E pensò, sistemiamo la questione una volta per tutte. Il cristianesimo all'epoca era la religione ufficiale, la Chiesa organizzata, che aveva fatto tutti quei compromessi a Roma, poi conosciuta come la Chiesa cattolica romana. Nel 538 avvenne un grande cambiamento. Giustiniano, l'imperatore romano, spostò la capitale da Roma a Costantinopoli e nominò il Vescovo di Roma capo supremo della Chiesa. Praticamente gli affidò un esercito con lo scopo di correggere le eresie. La data è il 538. A questo punto sulla Chiesa si abbatté una grande tribolazione. I cristiani dovettero praticamente spostarsi sottoterra per molto tempo, mentre la Chiesa di Roma, la Chiesa visibile, rimase una Chiesa di grandi compromessi col paganesimo. Lasciate che vi legga alcune cose. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grandi autorità. In pratica il dragone, il potere di Roma, guidati dai Cesari, diede alla Chiesa la sede a Roma. Ecco cosa si legge in Apocalisse, capitolo 17, dice, e la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra, sui sette colli. Una donna su sette colli. Viene descritto quello che è successo alla Chiesa, che è diventata infedele, ed era diventata un potere che perseguitava. Un grande tempo di tribolazione si stava abbattendo sul popolo di Dio. Il codice di Giustiniano entrò in vigore nel 538 e nominò il Papa come capo formale del cristianesimo e ordinò a tutti i gruppi di cristiani di sottomettersi alla sua autorità e gli diede il potere civile di decidere della vita e della morte degli eretici. Il Papa ricevette un esercito e i cristiani fedeli alla Bibbia dovettero scappare nel deserto. Vi sembra familiare? Accade davvero al tempo di Giustiniano. Si può leggere in Apocalisse 12, versetto 6, e la donna, la donna nelle profezie e la Chiesa, fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, perché vi sia nutrita durante 1260 giorni. Questo periodo di tempo capiterà varie volte. Questo tempo di grande persecuzione del popolo si protrasse per 1260 giorni, ma un giorno profetico è un anno. Ci sono almeno quattro versetti diversi che lo dicono nella Bibbia. Quando si studiano le profezie sul tempo, un giorno è un anno. È così, altrimenti non avrebbe senso. Dal 538, se si arriva al 1798, sono 1260 anni di potere ininterrotto, in cui la Chiesa romana ha dominato sulle divisioni di Roma. C'erano le dieci teste della bestia, si legge nell'Apocalisse, le dieci dita nell'immagine di Daniele, capitolo 2, per 1260 anni. Avete mai giocato a scacchi? Accanto al re e alla regina c'è un alfiere, che in inglese si chiama vescovo, da entrambe le parti controllavano gli stati europei, che erano il bastione del cristianesimo in quel periodo. I veri cristiani dovettero scappare nel deserto. Continua dicendo, perché con un editto che l'imperatore giustiniano aveva emanato per unire tutti gli uomini in una sola fede, sia ebrei che gentili o cristiani, chi non avesse scelto nel giro di tre mesi e professato la fede cattolica sarebbe stato dichiarato famigerato, e questo lo escludeva da qualsiasi impiego, civile o militare, rendendolo incapace di volere. Le sue proprietà sia reali che personali venivano confiscate. Molti però si opposero, e contro di loro l'editto fu seguito con massimo rigore. Molti veri credenti furono portati via dalle abitazioni con mogli e figli, denudati, altri massacrati in modo disumano dai contadini cattolici o dai soldati che facevano la guardia ai valichi. È tratto da storia dell'ascesa dello spirito del razionalismo in Europa. Potete leggere dallo studioso inglese Sir William Edward Lecky che la Chiesa di Roma abbia versato più sangue innocente rispetto a qualsiasi altra istituzione che sia mai esistita nell'umanità. Non sarà messo in dubbio da nessun protestante che abbia una conoscenza competente di storia. Qualcuno di voi è mai stato in Europa e si è fatto un giro nelle prigioni sotto la Chiesa? Karen e io siamo stati in Spagna, e dando pochi pesos ci avevano fatto vedere gli strumenti di tortura della Santa Inquisizione che ha avuto luogo in Spagna, Portogallo, in giro per l'Europa e che è persino arrivata nelle Americhe, dove se non eravate d'accordo con quello che diceva la Chiesa, si subiva una grande persecuzione all'epoca. La vera Chiesa si è dovuta rifugiare sottoterra. E qual è stato il periodo di tempo? 1260 giorni, guardate. Non dice solo questo, in Apocalisse 12, versetto 6, fatemelo leggere ancora, e la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, perché vi si è nutrita durante 1260 giorni. Viene nutrita per 1260 giorni, ricordate che Elia era scappato nel deserto durante una carestia per tre anni e mezzo. Un anno ebraico sono 360 giorni, è un calendario lunare. Quindi 42 mesi sono tre anni e mezzo e l'unico modo per arrivarci è con mesi di 30 giorni. Qui quindi ci sono 1260 giorni in cui ci fu una carestia spirituale in Europa. Come Elia fu perseguitato e mandato nel deserto e Dio la lo nutri, la Chiesa fuggì nel deserto in questo periodo. E Dio preparò un luogo. Molti veri cristiani fuggirono al sicuro nelle montagne. Vi rendete conto che dalla Francia fino all'Italia settentrionale, la Svizzera, i Pirenei, fino alla Slovenia e nella parte meridionale della Germania ci sono questi bastioni di montagne chiamate Alpi. E durante questo periodo di grandi persecuzioni, i veri cristiani fuggirono sulle montagne, come i valdesi. In realtà, di recente Papa Francesco ha scritto delle scuse ai valdesi per il modo in cui la Chiesa Cattolica li perseguitò, ma i valdesi non le hanno accettate, non so, potete cercare e vedere da soli. Ci furono gli albigesi, gli ussiti, i veri cristiani furono spinti verso le montagne e Dio la li nutri con la parola di Dio. Questo periodo di tempo non si trova solo nell'Apocalisse. Guardate Daniele, capitolo 8, versetto 12, dove si parla del potere della bestia che gettò a terra la verità, si allontanò dalle scritture e si combinò con il paganesimo. È quello che fece l'antico Israele, mescolò il cristianesimo o la religione di Yahweh con il paganesimo. Per quanto è durato? Guardate Daniele 12, versetto 7. Sarà per un tempo, per dei tempi, che vuol dire un paio, una coppia, cioè due, e per la metà di un tempo, vuol dire tre anni e mezzo. Quindi queste persecuzioni durarono per tre anni e mezzo. Sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo, quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta. Saranno dispersi ovunque. Guardate Apocalisse 11, versetti 2 e 3. I due testimoni della parola di Dio, la legge e i profeti. Alcune persone dicono che siano Elia e Mosè, ma Elia e Mosè rappresentano la legge e i profeti. La parola di Dio andò sottoterra. Calpesteranno la santa città per 42 mesi. Quanto sono 42 mesi? Sono 1260 giorni, tre anni e mezzo, lo stesso periodo di tempo. Ed è un tempo di persecuzione e resistenza. Per quanto ha insegnato Gesù? Tre anni e mezzo. Vedete, tre e mezzo è metà di sette, il numero perfetto di Dio, diviso a metà. Rappresenta un tempo di persecuzione, tribolazione, resistenza. Gesù ovviamente fu giustiziato alla fine di quel periodo di tre anni e mezzo di insegnamento. C'è questo periodo di tre anni e mezzo nella storia, un tempo profetico. Quindi abbiamo trovato un punto di partenza. A proposito, lasciate che vi legga anche Apocalisse 12, 13, 16. E quando il dragone si vide gettato sulla terra, perseguitò la donna, chi è la vera chiesa di Dio, chi aveva partorito il figlio maschio, Cristo. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, le aquile volano alto sulle montagne, per volare nel deserto, nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontano dalla presenza del serpente. Allora il serpente gettò dalla sua bocca dietro alla donna dell'acqua come un fiume. Daniele racconta della fine di Gerusalemme per via di un fiume, un fiume di eserciti che arrivò a perseguitare Gerusalemme. E ora la chiesa aveva mandato un fiume contro il popolo di Dio per farla portare via dal fiume. Ma la terra soccorse la donna e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva riversato dalla sua bocca. Ogni volta che provarono ad addentrarsi nella fortezza montana delle Alpi, il popolo fu protetto dai valichi e dalle montagne che c'erano. Quindi parliamo di questo periodo di tempo che iniziò nel 538 e se sommate 1260 anni, che sono tre anni e mezzo profetici, dal 538 si arriva al 1798. Cos'è successo allora? Beh, molto interessante. Si chiama la Rivoluzione Francese. Napoleone si assunse il governo dell'Europa e di Roma e mandò il suo imperatore Berthier a Roma nel 1798 e fece prigioniero il Papa, che morì prigioniero, mettendo fine al dominio politico della Chiesa Cattolica sull'Europa. Ecco cosa dice qui. La Rivoluzione Francese presto portò alla cattura e all'esilio del Papa da parte di Berthier nel 1798. Il codice giustiniano religioso centrico, che durò per 1260 anni, fu sostituito dal codice napoleonico secolare. Il generale Berthier dichiarò Roma una Repubblica indipendente e di conseguenza qualsiasi altra autorità temporale che veniva dal vecchio governo del Papa fu soppressa e non poteva più esercitare le sue funzioni. Dalla Costituzione della Repubblica Romana. Ed è esattamente quello che è successo. C'è stata una grande persecuzione. Si pensa che tra 30 e 50 milioni di cristiani ed ebrei furono uccisi durante questo momento storico di grandi persecuzioni. Quindi un'altra cosa interessante, e con questo concludo, che segna la fine di questo periodo, Gesù ha detto ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, parla della tribolazione storica della Chiesa, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. In Luca 21, versetto 11, lo racconta così, e vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. È interessante che, storicamente, dopo questo periodo di grandi persecuzioni ci fu il cosiddetto Grande Terremoto di Lisbona. Ci fu un grande terremoto nel 1755. A proposito, il terremoto di Lisbona è considerato uno dei terremoti più mortali della storia, dove morirono fino a 50.000 persone, si pensa, e fu avvertito a miglia di distanza, dall'Africa settentrionale fino all'Europa. E poi ci fu il misterioso giorno oscuro che avvenne il 19 maggio 1780. Anche se era un giorno bellissimo e senza nuvole, all'improvviso a tarda mattinata il cielo iniziò a farsi sempre più scuro, fino a che non si riuscì più a vedere se non a lume di candela nel bel mezzo del giorno. Gli storici non sono riusciti a trovare nessun incendio nelle foreste, nessun vulcano, nessuna eclissi o meteora, nulla che potesse bloccare il sole. Ma nella costa orientale la gente pensò che fosse il giorno del Signore, e quando sorse la luna quella notte era rossa come il sangue. Quindi ci fu un grande terremoto, un grande giorno oscuro nella storia, e poi le stelle che cadevano dal cielo. Ci fu una grande tempesta di stelle il 13 novembre 1833, che è stata la più impressionante secondo gli storici. Non ci sono fotografie, ma fu la più impressionante tempesta di stelle. Sembrava che tutto il cielo cadesse per molte ore, per gran parte della notte. Fu una grande tempesta meteorica, fu chiamata la notte in cui caddero le stelle. Ed è interessante che in Apocalisse capitolo 6, versetto 12, si legge che dopo la grande persecuzione, i santi di Dio sotto l'altare dicono quanto tempo il sangue è versato. E subito dopo dice, in Apocalisse 6, 12, poi vidi quando egli ha perse il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, come quello di Lisbona, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra. Queste cose accadranno velocemente alla seconda venuta, che seguirà la grandissima tribolazione. Ma si vede anche una grande tribolazione profetizzata nella storia, e tutte queste cose sono successe. Quindi, fase 1 della grande tribolazione, caduta di Gerusalemme, persecuzione degli ebrei, dispersi in tutto il mondo. Fase 2 della grande tribolazione è quello che è storicamente successo durante questa grande persecuzione papale che avvenne dal 538 al 1798. Ora ci spostiamo verso il futuro, la grandissima persecuzione, la grandissima tribolazione degli ultimi giorni, le sette piaghe finali. Parleremo di tutto questo nella nostra prossima presentazione. Amici, se siete benedetti da questi studi, spero mettiate un like, che li condividiate con i vostri amici, facendo così aiutate davvero a diffondere il Vangelo. Per favore cliccate lì e rimanete sintonizzati per i prossimi studi.